Come sta andando, come sta procedendo questo summit qui a Verona, soddisfatto della partecipazione e poi chiedo che futuro c'è secondo lei per la consulenza indipendente nel nostro paese? Molto soddisfatto, devo dire che questa occasione, questo convegno è una occasione importante che si rinnova di anno in anno, è una occasione nella quale come Borsa Italiana abbiamo avuto l'opportunità di ribadire il ruolo importante degli ETF come mattoncino per la costruzione di soluzioni di asset allocation, soluzioni di investimento, di cui di fatto rappresenta la principale attività dei consulenti indipendenti. ETF che è ben noto per la sua economicità, per la sua trasparenza, per la sua liquidità, caratteristiche che sono fornite dal mercato ETF Plus di Borsa Italiana, il nostro mercato domestico, che ha, e questa è stata l'occasione anche di ribadirlo oggi, sta svolgendo un ruolo importante anche per quanto riguarda i piani individuali del risparmio. Ad oggi sono presenti ETF che consentono l'accesso a soluzioni di allocazione verso le mid e small cap, soluzioni rappresentate da indici che rappresentativi di queste azioni quotate sui mercati di Borsa Italiana che di fatto consentono di accogliere e di accedere in maniera diversificata a un costo basso, trasparente e con grande liquidità. A questo punto il futuro della consulenza ha tutti gli strumenti adeguati, strumenti normativi arriveranno con la MIFID 2, strumenti operativi rappresentati dagli ETF, ma più in generale da tutti gli strumenti quotati, tra i quali mi permetto di citare anche la possibilità di negoziare direttamente i fondi aperti all'interno di un segmento dedicato appunto del mercato ETF Plus, rappresenteranno quelli che sono il cassetto degli attrezzi a disposizione per i consulenti indipendenti per meglio affrontare le sfide che il futuro di questa professione gli riserverà e meglio supportare di fatto quelle che sono le esigenze dei clienti che sempre di più ci auguriamo possono trovare in questa professione la soluzione ideale per le loro allocazioni di investimento.